Ciao, sono Antonio Pisano, riflessologo ed operatore shazoo. Ho creato degli utilissimi video che ti permettono di automassaggiarti, utilizzando la tecnica della riflessologia e i punti dello shazoo. Tutto ciò ti aiuta a prevenire e elenire una serie di disturbi, fra i quali, per esempio, il mal di testa, l'insonnia, la cervicalgia, i disturbi gastrointestinali e tanto altro ancora. Ti auguro buon massaggio! Ciao, quest'oggi ti mostro come poter massaggiare alcuni punti sulla mano, sul viso e sul piede per poter prevenire e elenire alcuni disturbi legati al mal di testa. Partendo dalla sommità delle orecchie e giungendo alla sommità del cranio, troviamo il punto da stimolare, che può essere stimolato con una pressione fissa media per 5 secondi, ripetuto per 5 volte, oppure con una pressione a pompa di media intensità per circa 1-2 minuti. Una volta individuato il punto sulla mano, premete con la punta del vostro pollice, con una media intensità per circa 5 secondi, ripetendo per 5 volte questa serie. La stessa stimolazione può essere eseguita con una pressione di circa 1-2 minuti a stantuffo sul punto in questione. Ovviamente una volta trattata la mano destra, passate a trattare la mano sinistra. Una volta individuato il punto sul malleulo interno, premete per circa 5 secondi con una media intensità, ripetendo la stessa operazione per 5 volte. Potete anche trattare questo punto con una stimolazione differente, che è a pompa o a stantuffo come indicato, per circa 1-2 minuti. Ripetere la stessa operazione sul piede sinistro. Entrambi in piedi debbono essere trattati per questo tipo di disturbo. I punti che ti ho mostrato possono essere utili per qualsiasi tipo di mal di testa. Utilizzati tutte le volte che vuoi e se sai di essere una persona soggetta a soffrire di mal di testa, trattali anche in forma preventiva. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS